E' stato inaugurato questa mattina presso l'auditorium del centro polifunzionale di Ischia la nuova sede del polo di psicologia clinica e psicoterapia, servizio istituito dal divertimento di salute mentale dell'ASL Napoli 2 Nord in partenariato con il comune di Ischia. Grazie al comune il polo sarà operativo nella nuova sede di via Morgioni, proseguendo così l'attività svolta nella precedente e provvisoria sede di via De Luca. I saluti delle autorità e la presentazione delle attività del servizio hanno preceduto un intenso monologo recitato dall'attrice ischitana Milena Cassano che ha poi aperto un dibattito col pubblico. A fine mattinata il brindisi di rito presso la nuova sede del polo. Per l'occasione all'incontro erano presenti autorità civili, militari e religiose, oltre all'ormai ex manager della ASL Napoli 2 Ferraro. Ai microfoni di Isola Verde e TV le impressioni di Carmine Barile. Carmine Barile parlando alla platea non soltanto da vice sindaco ma anche da medico, forse soprattutto da medico, ha detto è un sogno che si avvera. Certo, raggiungere degli obiettivi che sono molto sentiti dalla popolazione e molto utili, spesso anche solo perché non visibili in modo eclatante, come l'amputazione di un braccio o una polmonite dove uno, perché in genere si soffre in silenzio e paradossalmente quando più si è in silenzio più bisogna stare attenti e avere un servizio di questo tipo sulla nostra isola ben messo e speriamo con un'utenza diciamo che lo frequenti, certamente fa bene non solo all'utente, fa bene alla famiglia, fa bene alla collettività perché chi sta bene con se stesso sta bene in famiglia e sta bene con la collettività.